Consegnati i lavori per la realizzazione di una nuova autostazione nel comune di Mosciano Sant'Angelo presso l'ex centro fieristico che si trova nei pressi dell'uscita autostradale della stazione ferroviaria. La tua S.P.A. svolge la funzione di soggetto attuatore, costi dell'opera oltre 450.000 euro, lavori che dovranno essere completati in 180 giorni. Il Masterplan Abruzzo ha individuato fra le opere strategiche nel Teramano tre autostazioni. Questa è la terza che stiamo riconsegnando. C'è un appalto di 470.000 euro circa e si provvederà sostanzialmente da parte della tua che è soggetta attuatore alla consegna dei lavori della ditta che l'ha vinta e quando i lavori saranno completati tutto verrà dato in mano al comune di Mosciano Sant'Angelo che gestirà questa autostazione. Sì, almeno 10 pullman. C'è una divisione tra la sosta dei pullman e le auto private con segnaletica a terra. Ci saranno una serie di interventi che consentiranno a coloro i quali dovranno sostare di avere un minimo di compost. Forse ci sarà nelle pensiline il fotovoltaico che consenderà l'illuminazione del piazzale. Ancora una volta è un'opera che mette in moto un meccanismo per il quale nell'Abruzzo intiero, ma in questo caso nell'Abruzzo teramano, il sistema delle autostazioni dopo Silvi e dopo Teramo ha una sua linearità e consenderà ai cittadini che prendono gli autobus di avere punti di riferimento sicuri e soprattutto innovativi. Finalmente questo problema trova soluzioni, mette i piedi per terra. Noi abbiamo lavorato sin dal 2016 questa ipotesi di realizzare un'autostazione pubblica. Attualmente le fermate avvengono per strada, diciamo, davanti al breaking. Ma poi lavorammo con la Regione per l'inserimento, grazie al ex magnifico Rettore Luciano D'Amico. Quando si decise di uscire dall'Università da qui, si propose alla Regione di farvi in questo piazzale un'autostazione pubblica per lo scambio ferro-gomma, le linee pubbliche che transitano sulla A14 e sulla A24 con la ferrovia, qui vicino c'è lo scalo ferroviario, quindi tutto il sistema integrato.